Buongiorno a tutti, grazie al Presidente Di Stefano per questo invito. Mi dispiace non essere riuscita a partecipare in presenza a questa iniziativa a Capri, ma in ogni caso ci tenevo a farvi arrivare il mio saluto e il mio contributo. Ho partecipato in passato più volte alle vostre iniziative e mi faceva piacere partecipare anche da Presidente del Consiglio. Vi ringrazio per aver scelto di dedicare il 39esimo convegno nazionale di Capri al contributo che il settore privato può dare al Piano Mattei per l'Africa. Io penso sia una conferma ulteriore di come il nostro tessuto economico e produttivo capisca l'importanza di questa sfida e sia sempre più consapevole di quanto questo piano sia un'iniziativa strategica di respiro nazionale. Io spero anche capace di, diciamo, travalicare i singoli governi, diventare una iniziativa strategica dell'Italia sul lungo periodo. È un progetto che questo governo ha lanciato, ma che appartiene all'Italia nel suo complesso, perché è un progetto nel nostro interesse nazionale, nell'interesse nazionale della nostra storia e nella nostra vocazione geopolitica a guardare al Sud, al Mediterraneo, all'Africa, costruire con i popoli e le nazioni africane un nuovo modello di sviluppo, che sia un modello di parternariato, di crescita condivisa, un modello da pari a pari. Questo è un punto molto prezioso, perché il successo del Piano Mattei dipenderà anche e soprattutto dallo sforzo che l'intero sistema Italia, in tutte le sue articolazioni, sarà capace di produrre. Dal tessuto produttivo ovviamente possono arrivare idee, ma soprattutto soluzioni ai problemi concreti, perché non c'è nessuno più concreto di chi fa impresa e ogni giorno è chiamato a organizzare il proprio lavoro, programmare gli investimenti per il futuro. Il Piano Mattei che abbiamo scritto non è altro che questo, un piano concreto, fatto di progetti realizzabili, sostenibili, da attuare secondo un cronoprogramma ben delineato e stabilito. E credo che anche questa sia una novità importante che abbiamo voluto introdurre, perché di tutto c'era bisogno, tranne che dell'ennesimo lungo elenco di buoni propositi o diciamo così un nuovo grande libro dei sogni, magari da dimenticare in qualche cassetto dopo averlo scritto e magari averlo presentato. Con questo spirito, con questo approccio abbiamo lavorato in questi mesi per porre le basi del piano, per avviare i progetti pilota nelle prime nove nazioni con le quali abbiamo scelto di avviare questa collaborazione. L'Africa chiaramente sta attraversando una serie di transizioni che potremmo definire epocali da ogni punto di vista. Entro il 2050 la popolazione africana supererà quota 2,3 miliardi, un quarto della popolazione globale e la metà di queste persone avrà meno di 26 anni. È uno scenario che ci dice fondamentalmente due cose, che l'Africa si appresta a diventare uno dei principali mercati mondiali e che saremo chiamati a confrontarci con sistemi economici e produttivi sempre più dinamici e intraprendenti. Dinamismo e intraprendenza che non difettano di certo al sistema produttivo industriale italiano, che sono la base da cui partire per creare sinergie e collaborazioni di medio e lungo periodo con i giovani imprenditori africani. Io sono convinta che l'investimento nel capitale umano sia uno dei driver di sviluppo della nostra collaborazione e non è un caso che la formazione sia proprio uno dei pilastri del piano Mattei. Ciò che serve è puntare sulla formazione tramite le filiere dei diversi settori produttivi e io sono certa che il settore privato italiano possa fare la differenza soprattutto su questo. In questi mesi abbiamo lavorato molto anche per costruire l'architettura finanziaria che è necessaria a sostenere i progetti del piano Mattei ed è un lavoro che abbiamo portato avanti insieme alle istituzioni internazionali e alle nazioni che volevano dare il loro contributo. Abbiamo creato strumenti finanziari innovativi con la Banca Africana di Sviluppo, stiamo sostenendo la piattaforma virtuale per gli investimenti che è stata lanciata dall'Unione Africana e dall'Ocse per migliorare la trasparenza e le politiche pubbliche sugli investimenti del continente africano. A tutto questo si somma l'impegno per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese italiane con una serie di interventi che comprendono la misura Africa di Simest per le piccole e medie imprese e gli strumenti di cassa, depositi e prestiti per gli investimenti delle aziende di maggiori dimensioni. Insomma è un grande lavoro che ha sostanzialmente un obiettivo di fondo, costruire insieme alle nazioni africane nuove occasioni di sviluppo, aiutare i popoli africani a esprimere il loro grande potenziale. È un traguardo che possiamo raggiungere solo se mettiamo da parte, diciamo così, le dichiarazioni di principio e ci rimbocchiamo le maniche mettendo in ciò che facciamo concretezza, pragmatismo, rispetto per i nostri interlocutori. E so che da questo punto di vista non mancherete di fare la vostra parte. Quindi davvero grazie, grazie per il focus di questa iniziativa, grazie per il lavoro che abbiamo fatto fin qui insieme, grazie soprattutto per il lavoro che faremo insieme in futuro. Buon lavoro a tutti.